Cari fratelli e sorelle, Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato, dove ogni giorno si ripetono scempiri e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa settimana missili e bombe si sono abattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte. Tutto questo è disumano, anzi, è anche sacrilego. Penso anche al nunzio apostolico, appena fatto nunzio, Monsignor Viswaldas Kulbokas, che dall'inizio della guerra è rimasto a Kiev, insieme ai suoi collaboratori e con la sua presenza mi rende vicino ogni giorno al martoriato popolo ucraino. Stiamo vicini a questo popolo martoriato. Abbracciamolo con l'affetto e con l'impegno concreto e con la preghiera. Grazie. 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 Grazie.